Io ed il collega consigliere comunale Massimo Battista siamo stati chiarissimi nei confronti della città e nei confronti dei colleghi consiglieri. Stiamo raccogliendo le firme per presentare una mozione di sfiducia al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, mozione da presentare in consiglio. Occorrono 13 firme per presentarla, siamo a quota 10. Poi in consiglio occorreranno 17 consiglieri che votino la mozione di sfiducia, che quindi sfiducino Melucci e lo mandino a casa una volta per tutte. Ora, ci sono 5 consiglieri di centro-sinistra che hanno sostenuto Rinaldo Melucci e che ora e che da un po' hanno cambiato idea e lo vogliono sfiduciare. Vi dico subito i nomi di questi consiglieri e vi dico anche che non arrabbicatevi sugli specchi, sulla raccolta di firme dal notaio, sul presentare una nuova mozione. Nulla di tutto questo. Se volete mandarlo a casa, firmate questa mozione e la presentiamo in consiglio. Caro Vincenzo Di Gregorio, consigliere comunale del Partito Democratico, Lucio Lonocce, consigliere comunale del Partito Democratico, Mario Odone, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Luca Contrario, consigliere comunale di Tarantocrea, Gianni Liviano, consigliere comunale del gruppo misto, ma eletto nel Partito Democratico e già capogruppo del Partito Democratico. Allora, qui il discorso è molto semplice. Ora voi volete, dopo aver sostenuto Melucci, rifarvi politicamente una verginità, scrollare il vostro passato di sostenitori di Melucci. Volete riabilitarvi davanti ai cittadini? No, signori cari, voi avete solo un modo, quello di firmare questa presentazione di mozione. Se volete veramente mandarlo a casa. Se invece volete giocare sugli equivoci, troverete la scusa che la mozione non vi sta bene. E lo deve sapere tutta la città, perché la posizione di Massimo Battista e la posizione mia è stata chiarissima, chiarissima. In consiglio comunale siamo nati e in consiglio comunale questa amministrazione deve politicamente finire, se ci saranno i numeri per determinarne la fine politica. Non in altri modi, non nelle sacristie nascoste. Con questa mozione. Ma cari 5 consiglieri, ma avete esaltato Melucci, ora cosa volete fare? Volete passare per quelli che hanno liberato Taranto da Melucci? Voi siete responsabili politicamente, politicamente. Il mezzo per una minima, 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 minima riabilitazione, perché le responsabilità enormi resteranno per sempre, politiche, è quella di firmare la mozione di sfiducia. Non ci sono altre vie. Questa mozione di sfiducia. Di Gregorio, Loloce, Odone, Contrario, Liviano, prendere o lasciare. Non c'è altra via.